Ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video nella vita reale. Vi mostrerò la mia piscina qua in Ibiza. Lo sapevamo tutti, è Ibiza. Eccola. Questa è una piscina molto grande. La piscina più grande... No, è una piscina che abbiamo prenotato. Il mio padre la voleva prenotare. Per me voleva prenotare questa casa. Però andiamo a esplorare tutta la casa. Ok, stiamo per entrare in casa. Aspettate un po'. Qua c'è il papà di Maria Francesca. La. Poi... Qua... Qua c'è il papà di Maria Francesca. Qua c'è il papà di Maria Francesca. Qua c'è tu un bambino. Qua un coltino. Qua c'è il bambino. Questa è il bambino. Questa è il bambino. Questa è il bambino reale. Questa è il bambino reale. Questa è il bambino reale. Sei compasino un co%. In Montenegro già visto. Questa è il bambino reale. Questa è il cameramina, adesso andiamo Aspettate, anche Amore vuole fare il video Ah ah ah, giusto in tempo per coprire l'anuncia E adesso Poi, faccio degli ingresso Poi, la cucina La faremo vedere prima da qua E poi Alpio, Alpio, Alpio Adesso ho furlato il video I volatori, abbiamo la padella e altre Abbiamo tutte le cose per cucinare E c'è Alpio pure con noi Scusate, non ho capito, io sto calando Le altre camere di là Giuseppe, le altre camere Guardate quanto è grande Guardate quanto è grande Questa è la casa più grande che c'è Ora possiamo concludere qui Ciao